L'acqua è una risorsa vitale per l'uomo e per la natura, un elemento da preservare sia in termini di quantità che di qualità. È per questo motivo che in Fiat Chrysler facciamo tutto il possibile per minimizzare il consumo, evitando qualsiasi spreco e inquinamento. La Facility è una strada di Wastwater Treatment Facility, ha una capacità di design di 1100 metri per giorno per giorno per l'industria effluenza e 400 metri per giorno per giorno per il domestic effluenza. Di ogni ogni 300 kcal di acqua, ci sono un po' di acqua per il nostro lavoro. Questo è un'unico step per fare le nostre operazioni di acqua. Grazie a tutti.